Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo fantasy, la storia di un'assassina di talento che lavora per il re. Il testo pone delle domande etiche e morali rilevanti, mettendo in discussione il concetto di giustizia, la fiducia e il significato del dovere. La trama del libro La spada del re. A Broken Blade, volume 1 della scrittrice Melissa Blair, casa editrice Spurling e Kapfer, è la seguente. Kira del re è un'assassina. La più talentuosa del regno di Elverath, la favorita della corona, la spada del re. Elfa mezzosangue, orfana di entrambi i genitori, Kira sa che non può sfuggire al suo destino, è proprietà del re, e non può sottrarsi ai suoi ordini. Quando un'ombra misteriosa cospira contro la corona minacciando la stabilità del regno, Kira viene assoldata dal re Aemon per uccidere quell'uomo che nasconde il suo volto sotto un cappuccio e che, notte dopo notte, le ha tolto il sonno. Inizia così una caccia senza esclusione di colpi attraverso le terre fatate. Ma il regno non è affatto quello che sembra e lo stesso vale per l'ombra. Kira non può fare a meno di chiedersi chi sia il vero nemico da combattere, il re che ha distrutto il suo popolo o l'uomo incappucciato che ne minaccia la pace. Mentre è in cerca delle risposte ai dubbi che la tormentano, la giovane è perseguitata da una promessa solenne fatta molto tempo prima. Per mantenere a ogni costo la parola data, dovrà salvare non solo se stessa, ma il regno intero. Un romanzo con un hashtag da 6 milioni di visualizzazioni, un caso editoriale che dimostra il potere dei social, autopubblicato in forma anonima, ha risvegliato la curiosità delle booktoker che hanno scoperto così l'identità dell'autrice. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.